Qual è la situazione della raccolta differenziata a Sansepolcro? A oggi i dati ci dicono che siamo attorno al 34%, vicini al traguardo del 35% che il decreto legislativo 152 ci impone. Se non raggiungiamo questo traguardo, grosse sanzioni per i cittadini. Quindi grande preoccupazione, visto che negli anni passati avevamo raggiunto nel 2006 il 44%, quest'anno però c'è un dato fortemente anomalo. Oltre al grande risultato dato dalla raccolta differenziata porta a porta del centro storico, il dato di rifiuto verde-legno ha subito un calo del 60% rispetto all'anno precedente. Considerando questo tipo di rifiuto è il 50% del totale di raccolta differenziata, ci ha messo fortemente in crisi. Ora dobbiamo cercare di risalire alle cause che hanno portato a questo calo veramente anomalo. Crediamo che ci siano stati degli errori nell'inserimento dei dati perché ad altro non voglio certamente pensare o non posso pensare che oggi in casa i cittadini di Sansepolcro si siano messi a fare da soli del pellet e quindi lavorino il rifiuto legno e quindi lo riutilizzano. Quindi c'è da fare questa analisi e c'è da fare un grande applauso ai residenti del centro storico grazie ai quali siamo vicinissimi al traguardo perché se oggi dovessimo togliere dal totale del 34% il risultato del centro storico saremmo poco sopra il 20%. C'è stato durante il percorso qualche incidente di percorso sulla linea organico in quanto AISA che è l'area dove ritiravano organico è stata bloccata da parte di ARPAT per delle problematiche ambientali. Nei giorni successivi ci siamo adoperati assieme a Sogepo per trovare l'autorizzazione a conferire questo tipo di rifiuto. In altre aree non c'è stato concesso fino a quest'oggi che è arrivata l'autorizzazione tanto aspettata dal quadrifoglio SPA di Firenze e quindi dalla prossima settimana anche il rifiuto organico tornerà ai centri di recupero. Quindi una risposta importante e un ringraziamento nuovamente ai cittadini del centro storico che hanno dato una grande risposta di responsabilità e di civiltà e ai quali invito ancora una volta a stare attentissimi nella differenziazione del rifiuto organico perché questo rifiuto quando raggiunge i siti di recupero deve essere rifiuto organico quindi di stare attenti nella differenziazione perché altrimenti si corre il rischio che questo rifiuto venga poi rimandato indietro e fatto diventare indifferenziato.